no 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 assetta 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 adoro ciao a tutti ciao a tutti siamo ricky e teo and this is allora stai in cui perché c'è stato chiesto di fare questa reaction a un artista che si chiama priscilla fateci sapere se la conoscevate già la canzone si chiama aseita quindi adesso guarderemo il video sentiremo la canzone qui insieme a voi se non siete ancora iscritti al nostro canale subcribe iscrivetevi e se volete seguirci su instagram teo yon se e vario di richard adesso vedremo subito wow so già cadore partiamo bene assetta che carina lei mi piacciono i capelli rossi assetta 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 cosa vuol dire assetta ragazzi commentate i capelli rossi ha una voce molto particolare bella anche la canzone rimane un sacco in testa non mi aspettavo un ritornello così cosa significa assetta bravissimo anche a ballare bellissimo che la glorifica è assetta 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 adoro assetta mi piace molto anche la base Io amo quel pezzo Ci sono tantissimi cambi Bellissime le scene Poi adoro un sacco anche il video Commentate con la vostra scena preferita Ma cos'è? C'è un aereo? Assetta 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 Oddio ti rimane in testa assetta Non è finita? Ma... Ah ok Wow Wow Mi è piaciuta veramente tanto Il video soprattutto Ma anche la canzone In pezzo Assetta 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 Adoro Quindi brava Priscilla Ragazzi mi è piaciuto un sacco Priscilla Cioè davvero È il primo video che portiamo sul canale Fateci sapere se voi la conoscevate È una cantante emergente diciamo Comunque si sta facendo conoscere E come si sta facendo conoscere? Perché davvero È un video fatto benissimo Mi sono piaciuto un sacco Innanzitutto le riprese Poi i cambi di scena Che sono stati davvero tanti Gli outfit Lei con questi capelli rossi Mi ricordava un po' Eva Poi c'è stato questo pezzo di coreografia Che davvero non me lo aspettavo Il ritornello Mi è piaciuta tanto Davvero bella Ha una voce molto Leggera Profonda Anche sensuale Ha creato una hit Con questa canzone Fateci sapere nei commenti Se voi la conoscevate già E cosa ne pensate Di questo suo singolo Aseita Fateci sapere anche Cosa vuol dire Aseita Perché non ho capito Forse accetta Non lo so commentate E niente davvero Bravissimo Priscilla Quindi fateci sapere voi Cosa ne pensate Se vi è piaciuta Lasciate like Andate a seguire Priscilla Su Instagram E niente Se non siete ancora iscritti Al nostro canale Subscribe Iscrivetevi E ci vediamo con un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti The truth Ciao a tutti Ciao a tutti